Questa mattina Villare Calcati, sede della provincia di Varese, ha ospitato il convegno dal titolo Il Sistema Ambientale del Verbano Depurazione e Programmazione. L'incontro, che ha visto la partecipazione di vari esperti del settore, è servito per fare il punto della situazione sul sistema integrato provinciale di gestione idrica. È stato infatti stabilito chi lo gestirà in futuro. Si tratterà di una società di capitali a totale partecipazione di enti pubblici e la gestione sarà affidata in un primo momento alle società che oggi già si occupano del servizio idrico, con l'unica differenza che l'unico referente sarà appunto la nuova società. Resterà invariato il servizio per i cittadini.